Ladri di rame in azione lo scorso fine settimana in un'azienda, la Fisep SRL di Brendola, specializzata in pressofusione e stampaggio a caldo. I gnoti si sono introdotti all'interno dei locali da dove hanno sottratto 200 pistoni in rame di diverso diametro per un valore complessivo di 19.000 euro e sempre a Brendola malviventi si sono intrufolati in un'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso, fuggendo poi con 1.300 euro in contanti e una Nintendo Switch regali dei figli.